E' già su Mediaset Extra, sta per arrivare una famiglia decisamente fuori dalle righe, con Massimo Boldi, Barbara De Rossi, Maurizio Mattioli, Monica Scattini e la regia di Carlo Vanzina. Un ciclone in famiglia, domenica alle 19.45 su Mediaset Extra. I tuoi capelli sono colorati, stirati o trattati dal parrucchiere? Prolunga la loro bellezza con il nuovo Keratinology by Sunsilk. Le formule con microcheratina penetrano in profondità per ricostruire le fratture più piccole dei capelli, mantenendo la bellezza dei trattamenti più a lungo. Scopri l'innovazione dei prodotti Keratinology by Sunsilk. Se c'è Lola, c'è Carla. Se c'è Carla, c'è Chiasso. Se c'è Chiasso, c'è mamma. Se c'è mamma, c'è Bon Roll Aya. Con Bon Roll Aya c'è tutta la bontà di un arrosto di carni bianche. Ricco, appetitoso e facile da preparare. E se c'è Aya, c'è Gioia. Ma che bel vestito. Grazie. L'ho preso su Zalando. Migliaia di vestiti e scarpe con spedizioni reso sempre gratuiti. Silenzio! Poi, prima le tattate! Poi! Zalando urla di piacere. Stavo lavorando al computer. Arriva lui e inizia a tormentarmi. Voglio che se ne vada via. Capisci? In caso di mal di testa, puoi contare su Carlo Erba. Per un'azione rapida, puoi provare ibuprofene Carlo Erba 200 e 400 mg con sale di lisina. È un medicinale che può avere effetti collaterali anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Buon Natale! Quest'anno, 5 leggende. Salveranno il Natale. Io dico di provare tutto il possibile. Il canguro di Pasqua. Il che? Io sono un coniglio. Dalla DreamWorks, le 5 leggende. Ben trovati, ben trovati! Prendetevi le cuffie. Capiamo, diamo. Bene! Marco! La donna cannone. E allora Carletto Vaccarra! E si prenota Patrizia. Ti pretendo. E allora si salva Patrizia. Non è chi dice no. Ok, si salva Lorenzo. Ciao Eugenio! Saravanda. Da lunedì a venerdì alle 17.05. Su Mediaset Extra.